Ciao amici benvenuti nel canale commentatore donna. Sarei molto felice se ti piace e condividi il video. Aspettando i tuoi commenti. Resta sintonizzato per le notizie più affidabili e aggiornate. Kanyaman non solo attore e benefattore ma anche conferenziere. Diventato popolare in Italia soprattutto per la serie tv dei Dreamer Leali del Sogno, in cui era protagonista insieme all'attrice turca Dimet Özdemir, Kanyaman ha girato nel nostro paese la fiction viola come il mare con l'attrice, ex Miss Italia, Francesca Chillemi. Tra i due un grande feeling e voci di un film mai confermato. L'attore turco, inoltre, ha fondato l'associazione Kanyaman for Children, organizzando eventi per la raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature mediche da donare al reparto pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma. Ma ancora prima dell'associazione, l'attore si è sempre prodigato per la raccolta fondi a favore dei bambini ammalati. E questi lo hanno voluto ringraziare dedicandogli una bella lettera. Caro Khan, sei bellissimo. Ti vediamo in tv insieme alle nostre mamme, sei sempre sorridente e alcune volte ci fai ridere. Sei buono, ami i bambini, specie quelli che come noi hanno qualche difficoltà. Sai Khan, noi lavoriamo un po' di più, ma siamo proprio come gli altri bambini, anche un più testardi. Ti vogliamo ringraziare per il bellissimo regalo che ci hai fatto, ci vediamo da vicino appena puoi. Evet! Evet! Ormai questo è il nostro sì! Grazie mille Khan, un bacio da tutti noi! In Italia Khan Yaman è idolatrato dalle sue fan. La sua prestanza e bellezza, unite alla grande disponibilità nei confronti delle sue ammiratrici, ha fatto nascere in molte di loro un'ammirazione sviscerata, spesso anche ossessiva, tale da costringerlo addirittura a cambiare casa. Ma nonostante tutto, Khan Yaman non si tira mai indietro. Ne è una dimostrazione il tour benefico in atto che lo porterà ad incontrare prossimamente gli studenti del comune pugliese di Margherita di Savoia, nell'ambito del Break the Walk Tour. L'appuntamento, a porte chiuse, è fissato per giovedì 27 aprile, alle ore 11.30, nell'auditorium dell'i.i.ss Aldo Moro. Saranno coinvolti gli studenti dell'Istituto Secondario e dell'i.c Giovanni XXIII, Pascoli. Bravo Khan, questi incontri sono la parte più bella e più importante di questo tour, che sta avendo un enorme successo. Sono orgogliosa di essere una tua fan perché sei veramente speciale, è il commento entusiasta di una delle tante fan dell'attore.